E' la polizia stradale di Avellino a cercare indizi che possano portare a dare un nome ed un volto ai banditi che questa mattina, poco dopo le 8.30, hanno assaltato un'auto e un furgone portavalori della Cosmopol. I banditi, incappucciati e con armi da guerra, tra queste anche fucili AK-47 Kalashikov, hanno speronato e costretto a fermarsi l'auto dell'Istituto di Vigilanza Irpino. Il furgone viaggiava in direzione Salerno sul raccordo autostradale. La rapina è avvenuta tra Montoro e Fisciano. I soldi, circa 100.000 euro, erano diretti ad alcuni uffici postali. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polstrada, intervenuti insieme al nucleo anticrimine dei carabinieri, il denaro sottratto si trovava a bordo di un'auto della Cosmopol, che è stata affiancata dai banditi, che erano a bordo di un furgone doblò di colore bianco, che è stato poi ritrovato abbandonato in una zona di campagna non lontana dal raccordo autostradale. L'azione è durata pochi minuti. Dopo aver speronato l'auto, sotto la minaccia delle armi, hanno bloccato i vigilantes che erano a bordo e portato via il denaro. Nella fuga hanno sparato colpi all'impazzata, anche contro il blindato, che nel frattempo era sopraggiunto. Dopo tre ore di stop, l'ANAS ha riaperto la strada, che era rimasta chiusa in direzione Salerno. Durante l'interdizione al transito, il traffico era stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Montoro Sud. Sul posto sono intervenute le squadre dell'ANAS per la pulizia del piano viabile.